All'Eurovision ha vinto una persona vestita da bambola, cioè una persona che non ha capito se è maschio o femmina. Vabbè, Nemo in realtà non è neanche la cosa più grave. Al sesto posto troviamo Bambi Thug. Bambi Thug è la prima persona che abbia mai fatto un rito satanico pubblico ufficialmente, perché non ufficialmente c'era pure la Raffaella Carrà che faceva queste cose, però non era ufficiale, cioè andava in televisione e diceva viva Satana, viva Satina, poi diceva che scherzavano. Invece ora no. Cioè se tu vai su Wikipedia e digiti Bambi Thug, trovi che è lo pseudonimo di Bambi Ray Robinson, che è una cantante irlandese e ha rappresentato l'Irlanda all'Eurovision, scorri scorri scorri, vita privata. Durante l'infanzia a Bambi Thug è stato diagnosticato la DHD. Attualmente risiede a Londra, è una persona non binaria, cioè una persona sessualmente molto... ok? Tra maschio e femmina sceglie boh. E Bambi Thug pratica la stregoneria, in particolare la magia dei sigilli e della manifestazione, oltre a avere praticato in passato anche la magia del sangue. Leggo da Wikipedia, non da Complotto.8. Che Wikipedia è importante perché è la voce del padrone, ci fanno scrivere chi vogliono e come vogliono, perché censurano tutti gli altri. Quindi, in realtà, per sapere come sta la storia del mondo non va tanto bene, ma sicuramente se lo dicono su Wikipedia è roba provata dal regime, è roba che proprio te la stanno dicendo in faccia. La stregoneria ha avuto una grande influenza sulla sua musica, numerosi incantesimi e maledizioni sono inclusi in varie canzoni e l'artista ha creato il proprio sigillo come logo ufficiale. Insomma, fondamentalmente stiamo parlando di una persona non binaria che fa riti satanici, così pubblicamente, ma cerchiamo di capire una cosa che se non la capiamo non capiamo niente. Cosa vuol dire satanismo? Cioè, cosa vogliono fare queste persone che spingono i riti satanici, queste robe, che vogliono? Perché se no stiamo a di tutto e stiamo a di niente. Quello che vogliono, secondo me, è semplicemente lanciare un anticristo che poi vuol dire semplicemente un grande nuovo leader mondiale per un governo unico mondiale in cui i bambini saranno prodotti e non più fatti perché l'obiettivo è quello di farli in provetta in maniera da farne quanti e come vuole il potere costituito e poi microcipparli tutti in maniera da poterli controllare perfettamente. Cioè, al di là di tutte queste cose, questo fumo, qual è l'arrosto? L'arrosto è il controllo totale da parte di un governo mondiale. Questa è la cosa che, secondo me, ci deve veramente spaventare perché questa è la lore, è il fumo, appunto, dicevo, è la mitologia, l'estetica che, detta così, può anche affascinare, perché dai, magari il diavolo mi dà quello che avevo sempre voluto, ma questa roba qui serve per lanciare un'idea di annichilimento totale della razza umana attraverso il controllo totale. Quindi, poi, alla fine, il controllo di pochissimi che rimangono in cima e tutti gli altri diventano una massa di bestiame. Questo, secondo me, ci deve preoccupare. Al di là del fatto che, se poi vedete il video di Baby Tug, purtroppo è veramente disgustoso. Questa roba all'Eurovision, quindi roba e vedono anche i bambini e poi gli rimane in testa, capito, questa estetica della... Ma sei ancora qui? Ma sei una persona eccezionale, hai visto tutto il video, ti devo fare un regalo. Allora, tu vai su guidogiacomogattai.com, guarda i servizi, qualunque servizio tu abbia bisogno da parte mia, mi mandi in messaggio privato il codice Sì, l'ho visto tutto e io ti faccio il 10% di sconto su qualunque cosa tu voglia. Grazie che l'hai visto tutto il video, veramente grazie.